Un annuncio importante. Sì, ho deciso di accettare la candidatura per il rinnovo del nuovo Parlamento europeo l'8-9 giugno. È una sfida importante, penso che l'esperienza che ho maturato in questi dieci anni come sindaco della città di Fano, ma anche con le altre esperienze e anche con i ruoli internazionali che ho assunto in questi periodi, possono essere utili per il territorio, ma soprattutto perché sono convinto che l'Europa possa svolgere un ruolo importante, dobbiamo crederci, e chi la rappresenta deve svolgere una funzione propositiva in tal senso, lavorando per rafforzarla, perché se l'Europa non sarà più forte, anche il nostro paese sarà più debole. Perché con Calenda? Ho scelto di candidarmi con questa forza politica perché è un contenitore che raccoglie le esperienze socialiste, repubblicane, popolari e tutta l'area riformista. Quindi è un approdo naturale per chi ha la mia esperienza, perché è una forza politica che è contro i populismi, che crede in un'Europa forte, ha un programma, forse è uno dei pochi, che ha un programma vero, non demagogico e non fatto di slogan. Fano ha un altro candidato europeo, che cosa ti contraddistingui rispetto al tuo avversario? Beh, intanto il pluralismo mi piace e quindi è importante che ci siano anche più voci, ma la differenza è proprio questa, che io vengo da una cultura e mi candido perché credo veramente nel ruolo dell'Europa, non ho mai appartenuto a coloro che volevano uscire da questo ente europeo, non ho mai appoggiato queste posizioni molto demagogiche, che poi si sono anche contraddette, per poi quando hanno assunto la responsabilità hanno tutti rivisto. Quindi la mia è una scelta convinta, una scelta di contenuti, è una scelta per un'Europa che debba essere più forte, che debba avere una politica estera condivisa, che debba avere una difesa condivisa e che abbia una politica anche sulle grandi questioni, a cominciare dalla stessa sanità, dove si può svolgere un ruolo importante, perché non dimentichiamolo, ci dimentichiamo molte volte troppo in fretta, l'Europa nei momenti delicati ci ha sempre aiutato e quindi un'Europa più forte significa un'Italia più forte. Europa madre e matrigna, ci sono due settori anche della nostra economia che soffrono per le disposizioni prese dall'Europa, vedi la pesca e vedi l'agricoltura. Ebbene, se riesci ad entrare nel Parlamento europeo, che cosa puoi fare per Fano? Sicuramente rappresentare questi mondi, Fano si è caratterizzata molto nella sua economia per quello che riguarda il comparto della pesca e dell'agricoltura. Le politiche europee sono fondamentali, sono importanti, abbiamo visto anche in questi periodi recenti manifestazioni, perché c'è bisogno anche di un ripensamento di alcune scelte, alcune politiche che l'Europa ha impostato, ma soprattutto c'è bisogno di avvicinare più l'Europa ai cittadini. Anche il percorso fatto lo scorso anno, dove io anche personalmente ho partecipato attraverso alcuni organismi, nel provare a riformarla e a rinnovarla. E penso che l'impegno in tal senso vada in questa direzione. E lo faccio perché ne sono convinto e penso di avere anche le competenze giuste per poter svolgere quel ruolo. Proprio per questo, mercoledì 24 alle ore 18.30, presso la cooperativa Tre Ponti, organizzo un'iniziativa per presentare queste proposte e soprattutto per spiegare le ragioni della mia candidatura, con me ci sarà l'On. Ricchetti che mi accompagnerà e ci saranno anche alcuni candidati sindaci della nostra città, perché penso che l'Europa sia importante anche per chi voglia amministrare la nostra città.